Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico anche questa puntatona dà il colore di retrocomputing oggi parliamo brevemente di cloni del Commodore 64 e cloni Amiga in due parole, non ci furono mai cloni Amiga per tre banali ragioni 1. I manuali tecnici di Commodore non furono mai diffusi in dettaglio tutte le circuiterie degli Amiga 2. Retroingegnerizzare i chip custom della Commodore per la piattaforma Amiga Agnus, Denise, Paula non era facile e non era possibile retroingegnerizzarli ad un costo inferiore a quello che Commodore già li produceva 3. La Commodore non volle mai dare in licenza a terzi la piattaforma Amiga ora, questa affermazione è vera tranne per il fatto che dal 1992, negli ultimissimi anni 1992, 1993, pochi mesi, 1994 la Commodore licenziò la piattaforma Amiga 1002 nel sud-est asiatico per costruire CD32 e CDTV quindi praticamente vi fu, diciamo, la piattaforma Amiga che fu licenziata ai produttori del sud-est asiatico però, ecco, poi i prodotti erano venduti con prodotta, con brand Commodore Amiga o comunque Amiga CD32 e CDTV ora, i risultati commerciali però furono veramente pessimi che la qualità della circuiteria di bordo era difettosa e si rompeva facilmente ci ho fatto un podcast al riguardo trovate nella playlist in descrizione questo fu un elemento negativo che incise praticamente sulla qualità del brand Commodore perché, diciamo, la alta difettosità dei prodotti Commodore distrussero la propensione all'acquisto dei consumatori domanda perché non ci furono cloni del Commodore 64 mentre per Apple II si contano oltre 200 varianti diversi dell'Apple II nel manuale utente del Commodore 64 si nota che la Commodore ebbe a fornire già dal 1984 tutta la circuiteria di bordo incluse le specifiche degli spenotti e prese di input ed output per cui c'è da chiedersi come mai, nonostante tutto questo know-how diffuso furono prodotti nel mondo solo due cloni del Commodore 64 contro le oltre 200 varianti di Apple II la prima ragione sta nel fatto che il Commodore 64 era stato progettato come una macchina chiusa non c'erano slot di espansione come invece ce n'erano su Apple II per cui non era possibile aggiungerci niente al Commodore 64 la seconda ragione sta nei chip logici proprietari che non erano facili da clonare e che erano prodotti dalla MOS Technology per il Commodore 64 stiamo parlando della serie dei chip logici 74 che non erano standard e quelli della MOS Technology garantivano un funzionamento diverso rispetto a quello che altri produttori proponevano sul mercato nella componentistica elettronica ragione per cui l'unico vero clone del Commodore 64 fu il Dream Commodore 64 che però di fatto era un home computer prodotto in Argentina su licenza Commodore per il mercato sudamericano quindi il Dream Commodore 64 era di fatto un Commodore 64 infatti volte a montare la stessa circuiteria dalla MOS Technology che gli veniva spedita dagli Stati Uniti all'Argentina proprio per sostenere la produzione del Dream Commodore 64 per il mercato sudamericano le altre fabbriche invece della Commodore erano negli Stati Uniti oppure in Germania in Gran Bretagna per soddisfare i fabbisogni del mercato sul mercato europeo e americano secondo clone del Commodore 64 era un clone davvero speciale lo Spartan della Mimic Technology l'arbre del de facto garantiva la compatibilità sia con Apple II che con Commodore 64 ora Commodore 64 Vig 20 Apple II Apple II Plus Apple II Apple II montavano lo stesso processore 6502 o comunque un processore appartenente alla famiglia del 6502 e teoricamente avrebbero potuto essere compatibili c'erano però delle differenze nella circuteria di bordo ad esempio il Vig 20 aveva già un chip audio e video dedicato era particolarmente potente ma già sul Vig 20 c'era una diversa gestione dell'accesso alla RAM e alla produzione di grafica e del suono anche il Commodore 64 aveva un chip audio e video dedicato e che era superiore a quello del Vig 20 quindi il chip video del Commodore 64 gestiva in automatico gli sprite e il chip audio aveva 4 voci invece da Apple II Apple II Plus Apple II Apple II c'era solo il 6502 che accedeva alla memoria ed era il factotum curava l'audio la grafica l'interazione con l'utente faceva i calcoli si interfacciava poi con le periferiche su cui i rispettivi Pio delle interfacce pilotavano le periferiche esterne ecco mancavano ad Apple II i chip audio e grafici che invece c'erano sul Commodore 64 comparvero i chip audio e grafici con accesso autonomo alla memoria solo con Apple II GS queste erano le ragioni per cui gli Apple II erano incompatibili con Commodore 64 nonostante le due famiglie di macchine avessero un microprocessore appartenente alla stessa famiglia il secondo e l'ultimo clone del Commodore 64 fu appunto lo Spartan prodotto dalla Mimic Technology era un Apple II Plus in cui in uno slot aveva una scheda di espansione che era di fatto un Commodore 64 poi sullo Spartan c'era un chip che gestiva lo switch tra le due piattaforme per far funzionare il software sull'una o sull'altra i ROM degli Spartan erano quelli dell'Apple ma per evitare i problemi legali di cronatura da che lo Spartan era stato prodotto senza licenza Apple le ROM Apple erano state tutte disassemblate le istruzioni furono modificate e riordinate in altro modo nelle ROM Spartan della Mimic per cui formalmente le ROM dello Spartan erano diverse dalle ROM Apple II ma poi sostanzialmente quando andavano a processare il software le ROM dello Spartan prodotte dalla Mimic eseguivano gli stessi comandi delle ROM Apple garantendo la compatibilità con il software di Apple II la peculiarità dello Spartan era che aveva una CPU schiava per il calcolo della grafica 3D cui la CPU centrale delegava tale compito alla CPU schiava a causa di problemi legali lo Spartan doveva essere venduto a pezzi e non poteva essere comprato già montato e funzionante da un utente era una macchina personalizzabile e non poteva essere venduta interamente assemblata e già funzionante al consumatore non essendo l'hardware prodotto in licenza da Apple o da Commodore le prime pubblicità dello Spartan della Mimic furono diffuse tra il 1986 e il 1987 in un mondo sporadico solo su riviste di elettronica americane per appassionati e non giunsero mai sulle riviste di informatica generalista americane o europee tantomeno lo Spartan fu mai pubblicizzato o tantomeno fu mai recensito sulle riviste di settore interemente dedicate ad Apple o da Commodore che erano negli Stati Uniti in Europa lo Spartan della Mimic software rimase nascosto al mercato rimase quindi lo Spartan della Mimic segregata ad una piccolissima nicchia di mercato di elettronica per corrispondenza per questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.